Roberta Di Padua è incinta di una bimba il segreto della scarpina rosa. Visita il sito gns247.net per seguire le ultime notizie. L'indiscrezione sulla possibile gravidanza di Roberta Di Padua ha continuato a tenere banco tra i fan della coppia, generando un vortice di curiosità e speculazioni sui social media. Da quando Roberta e Alessandro Vicinanza hanno ufficializzato la loro relazione dopo l'uscita da uomini e donne. Il loro percorso è stato seguito con grande attenzione e, spesso, con la speranza di una lieta notizia. La comparsa della coppia al red carpet della mostra del cinema di Venezia ha acceso ulteriormente le voci, soprattutto dopo il gesto simbolico di Alessandro, che ha consegnato a Roberta una scarpetta da neonato rosa, suggerendo l'arrivo di una bambina. Tuttavia, nonostante i segnali e le anticipazioni che hanno alimentato le aspettative, Roberta ha scelto di mantenere un riservo totale sulla questione. È una cosa delicata, ha dichiarato, lasciando intendere che il momento è particolarmente personale e che non desidera condividerlo pubblicamente al di là delle apparenze. Questa risposta enigmatica ha spiazzato molti, aprendo la strada a ulteriori speculazioni e interpretazioni contrastanti. Alcuni fan vedono nel silenzio della coppia un modo per proteggere una fase iniziale della gravidanza, mentre altri restano scettici, credendo che si tratti di una trovata pubblicitaria o di una semplice coincidenza. Al di là delle supposizioni, Roberta e Alessandro sembrano vivere un periodo di grande sintonia, come testimoniato dalle immagini che li ritraggono in vacanza e nei momenti quotidiani di vita di coppia. La loro storia, nata sotto i riflettori e spesso bersagliata da critiche, sembra invece aver trovato una propria stabilità, e la decisione di costruire una famiglia insieme rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti. Per il momento, però, Roberta preferisce rimanere cauta, forse per scaramanzia o semplicemente per godersi questo eventuale momento speciale lontano dai riflettori e dalle pressioni mediatiche. In attesa di una conferma ufficiale, i fan della coppia possono solo attendere con il fiato sospeso e continuare a seguire le vicende di Roberta e Alessandro, sperando che presto ci sia un annuncio ufficiale. La coppia, che ha dimostrato più volte di saper affrontare le avversità e le critiche con maturità, potrebbe decidere di condividere questa gioia con il pubblico quando sarà il momento giusto per loro. Nel frattempo, i follower dovranno accontentarsi dei piccoli indizi e delle dichiarazioni criptiche che i due stanno rilasciando, con l'augurio che il loro amore possa portare presto a un nuovo capitolo della loro vita insieme. Mentre l'attesa cresce, Roberta e Alessandro continuano a mostrarsi sui social con un atteggiamento sereno e felice, alimentando l'affetto e il sostegno dei loro seguaci. I fan non possono fare a meno di notare i gesti affettuosi e le parole dolci che i due si scambiano pubblicamente, suggerendo un legame sempre più solido e profondo. Le immagini di una recente gita romantica, condivise da entrambi sui loro profili, mostrano i due immersi nella natura, sorridenti e complici, come se volessero sfuggire almeno per un po' alla frenesia della vita pubblica e rifugiarsi in momenti di semplice felicità. Tuttavia, c'è chi sostiene che questa reticenza a confermare o smentire la gravidanza potrebbe essere una strategia ben studiata per mantenere alta l'attenzione mediatica, un'ipotesi che non stupisce nel mondo dello spettacolo, dove l'immagine e la narrazione pubblica giocano un ruolo cruciale. Alcuni critici non mancano di sottolineare come la presenza costante di Roberta e Alessandro in eventi di alto, profilo e la loro partecipazione attiva sui social media possano essere un modo per tenere vivo l'interesse sul loro percorso post ai uomini e donne. Ma per ora, quello che è certo è che la coppia sembra più unita che mai, affrontando insieme sia le sfide personali che le dinamiche spesso implacabili dei media. In fondo, l'importante per Roberta e Alessandro sembra essere la loro felicità condivisa, al di là delle conferme ufficiali o delle speculazioni esterne. L'ultima edizione di Ballando con le stelle continua a riservare sorprese e colpi di scena. Dopo l'annuncio della rinuncia di Lucrezia Lando, che ha deciso di dedicare il suo tempo a un nuovo e importante progetto, il programma perde un altro amato protagonista, il ballerino Simone Casula. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha scosso i fan dello show. Simone Casula. Noto per le sue spettacolari performance e il carisma che ha conquistato il pubblico nelle scorse edizioni, ha comunicato la sua esclusione attraverso un post sui social, esprimendo rammarico ed elusione per non poter partecipare alla nuova stagione. Cari amici, ha scritto Casula. Ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Nel rispetto di chi mi ha seguito e mi ha regalato affetto nelle edizioni passate. La decisione di non includerlo nel cast è stata motivata con questioni legate alla selezione dei concorrenti VIP, ma il ballerino non ha voluto entrare nei dettagli specifici. Nonostante la sua esclusione dal cast principale, Casula ha rassicurato i suoi sostenitori con la promessa di continuare a far parte della famiglia di Ballando. Ha confermato che parteciperà come ballerino per una notte, dimostrando così la sua volontà di rimanere legato al programma in una forma diversa. Auguro un grosso in bocca al lupo a Millie, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti, ha aggiunto, manifestando il suo supporto per il team e i partecipanti dell'edizione corrente. Nel frattempo, il cast del programma continua a prendere forma. Con conferme di nomi noti come Massimiliano Ossini, Sonia Bruganelli, Federica Nargi e Tommaso Marini, il pubblico può aspettarsi una stagione ricca di sorprese. Tra i VIP che hanno già accettato la sfida ci sono anche Federica Pellegrini, i cugini di campagna, Bianca Guaccero, Francesco Paolo Antoni, Furcan Papali, Nina Zilli e Friedman Allen. Tuttavia, rimane ancora misteriosa l'identità di un ulteriore concorrente femminile che sarà svelata solo nei prossimi giorni. Inoltre, sono emersi alcuni retroscene interessanti, con voci su presunti atteggiamenti capricciosi di un concorrente VIP nel backstage, secondo quanto riportato da Dagospia. Questo potrebbe aggiungere ulteriore pepe a una stagione già promettente e movimentata. La partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle si avvicina, e mentre le ultime modifiche al cast sono in corso, i fan sono in trepidante attesa di scoprire come si evolverà la competizione. La mancanza di Simone Casula e di Lucrezia Lando, insieme ai continui sviluppi e ai cambiamenti dell'ultimo minuto, rendono questa stagione una delle più incerte e affascinanti degli ultimi anni. Il clima di aspettativa cresce anche con le nuove dichiarazioni delle giurate storiche. Caroline Smith, una delle colonne portanti del programma, ha recentemente condiviso il suo entusiasmo per la nuova edizione, ma ha anche espresso qualche preoccupazione riguardo ai cambiamenti e alle nuove dinamiche che si stanno formando. Sarà un'edizione complessa e ricca di novità, ha affermato. Spero che i concorrenti siano pronti a mettersi in gioco e a superare le sfide che ci aspettiamo. Anche l'atmosfera nel backstage sembra essere tesa, con alcuni rumors che indicano discussioni tra i membri del cast e il team di produzione riguardo le nuove, modalità di selezione e i criteri di partecipazione. Fonti vicine al programma hanno rivelato che alcuni dei VIP in gara hanno sollevato preoccupazioni riguardo le prove e le coreografie, chiedendo modifiche e adattamenti alle loro esigenze personali. In questo scenario di incertezze e cambiamenti, Millie Carlucci continua a mantenere alta la propria professionalità e a gestire la situazione con determinazione. La conduttrice, che ha sempre dimostrato una grande capacità di affrontare le sfide, sembra pronta ad affrontare qualsiasi imprevisto possa sorgere.